Estate senza fine a Venezia, dove con il caldo e l'afa che aumentano sempre più, cala, incredibile ma vero, il numero dei turisti in città. Merito o demerito, che dir si voglia, dei nuovi sistemi di deviazione dei flussi, i cosiddetti barchi. E il bilancio stilato dalla regione è naturalmente comparato con i numeri della scorsa estate. Venezia come città un leggero calo l'ha avuto. Il paradosso è che i numeri sono tuttavia sempre da record. Però devo dire che Venezia è una città che negli ultimi anni ha avuto delle crescite incredibili e addirittura abbiamo avuto una massa di turisti che in certe situazioni ha creato anche un po' di disagio. Con Venezia che si conferma la città che è elementare le maggiori entrate per turismo in regione e con un incremento pari a un più 19,4% grazie ai turisti stranieri. Ovviamente Venezia attira qualsiasi tipologia di turismo. Abbiamo turisti facoltosi che ovviamente vanno in alberghi 5 stelle ma abbiamo anche un turismo di massa fatto da persone anche provenienti da altre regioni italiane che raggiungono la città magari anche per una semplice giornata oppure al massimo una notte a disposizione. Quindi diciamo che è un turismo diversificato però il lavoro che stiamo cercando di fare noi è di evitare di lavorare sui flussi anche perché appunto Venezia non ha bisogno di attirare nuove quantità di turisti ma ha bisogno di qualità dei turisti. Quindi stiamo lavorando su prodotti turistici particolari proprio perché vogliamo che magari ci sia meno gente ma che spenda di più. E il Veneto che come lo scorso anno è la sesta regione più visitata d'Europa. In particolare nel Veneto è una situazione diciamo di consolidamento rispetto alle annate scorse però dobbiamo tener conto che veniamo da 4 anni di crescita continua dal 3 al 6% a seconda dell'annata quindi quest'anno diciamo è un anno fisiologico se vogliamo ma insomma sempre attestandosi su presenze più o meno sui 70 milioni di presenze e 19 milioni di arrivi quindi ovviamente sempre la prima regione a livello turistico in Italia. Grazie.